Si dice che sia meglio avere un rimorso che un rimpianto. Negli ultimi tre anni ho imparato quanto questa frase possa essere vera. Perché limitarsi a studiare il Pantheon su un libro quando puoi vederlo dal vivo, in tutto il suo splendore? Perché non provare a vivere la storia in prima persona? Volevo fare tutto questo. Volevo vivere una vita piena d'avventura. Studiare a Roma mi ha cambiato profondamente. Ho imparato ad esprimermi in modo creativo, a vedere le cose da una prospettiva diversa, gestire il mio tempo e anche a lavorare sotto pressione. Ho scoperto come guardare il mondo attraverso gli occhi altrui. ed ho stretto amicizie con persone da tutto il mondo, che dureranno per tutta la vita. Il mio consiglio è Cogli le opportunità che ti si presentano. Un giorno avrai tante storie da raccontare. Io farò così.